E ormai nel vivo e durerà fino al 16 giugno a San Giovanni Valdarno con una serie di eventi che coinvolgono la comunità, la festa dello sport. Lo schema generale dei vari tornei, dei rioni, di calcetto, quindi poi i tornei di basket, avremo la staffetta sotto le stelle, come sempre il ciclismo in piazza. Il premio è anche per ricordare che il 9 saranno lungo l'Arno i attivi, tutti i laboratori sportivi e la premiazione avverrà come sempre in Palazzo d'Arnolfo. Quest'anno ci sono anche novità di rilievo che vanno verso la vocazione sociale della pratica sportiva. L'introduzione di due attività diverse, in particolare un'attività svolta all'oratorio, dentro l'oratorio, con i ragazzi e i volontari dell'oratorio, contro la ludopatia, per cui ci sarà il gioco, non il gioco sportivo, il gioco, si tratterà il tema delle scommesse in modo però divertente. E sempre in ambito dell'oratorio si esibiranno per la prima volta a San Giovanni il fan tennis, che sono appunto gli sportivi che praticano tennis su sedia a rotelle. Insomma un calendario ricco e articolato che guarda anche alle fasce cosiddette deboli della popolazione.